ciao a tutti e benvenuti in questo video dove oggi noi realizzeremo il punto rodi lo potete vedere in questo pezzetto che io ho già ricamato o già realizzato inoltre mi fate sapere qua sotto nei commenti per cortesia se vi interessa anche la rifinitura di questo piccolo pezzettino è carina ecco è anche semplice da fare allora torniamo al nostro punto rodi che è questo qui è un punto cosiddetto di fondo cioè praticamente sono punti che vengono utilizzati a riempimento in alcuni ricami se noi ad esempio abbiamo un fiore il contorno del fiore si fa con un altro punto e poi se dobbiamo riempire o tutto il fiore o un petalo insomma quello che volete una foglia, lo stelo, quello che c'è in quel caso lo possiamo riempire con questo motivo qui a quadrettini che appunto si chiama punto rodi si può realizzare bianco su tela bianca oppure ecco come vedete colorato diciamo non ci sono più dei canoni precisi ecco si possono utilizzare quindi tutti i colori soprattutto si utilizza per creare una sorta di chiaroscuro cioè se qui vicino ad esempio questa fosse una foglia non so qui ce ne fosse un'altra magari facendo un altro tipo di riempimento che potrebbe essere anche il punto rodi doppio che è questo qua serve per mettere in evidenza magari questa rispetto a questa si lavora con il telaio anche se io in questo caso non ce l'ho montata questa pezza sul telaio perché è troppo piccola io il telaio ce l'ho più grande quindi non posso farlo e magari se vi interessa una volta lo vediamo questo telaio diciamo bene i punti che si fanno a telaio quelli no come si monta come si mette la stoffa insomma tutto anche questo nei commenti fatemi sapere se vi interessa appunto il telaio e ancora l'ultima cosa quale filato tutti quelli diciamo da ricamo che ci servono in quel momento quindi il perlè il mulinè insomma il filo da ricamo quell'altro tutti i tipi di filo da ricamo che vogliamo con cui vogliamo lavorare quello specifico lavoro ma è fondamentale il tessuto deve essere un tessuto a trama regolare perché è a fili contati dobbiamo contare le trame e quindi necessariamente le trame devono essere sia ben evidenti quindi bisogna vederle che regolari perché dalla regolarità ecco delle trame come potete immaginare no deriva poi la regolarità di questi quadrettini fatte queste premesse possiamo iniziare vedete qui che io ho già fatto un pezzetto che adesso vado a disfare ricominceremo insieme ma serve proprio per farvi vedere che questo punto si lavora procedendo a scaletta cioè si fa una scaletta in questa maniera e in diagonale in particolar modo da destra verso sinistra si lavora ok in giri di andata che è questo qui ad esempio e in giri di ritorno e si lavora quindi in diagonale quindi ricordatevi da destra a sinistra in diagonale in giri di andata e ritorno in questo caso io utilizzo il filo mulinet che è quello del punto croce ha due fili, due capi quindi ne ho presi sul mazzetto solamente due capi e li ho praticamente messi insieme abbiamo noi un filo che esce da qua mettiamo un punto quindi qualsiasi della tela nel giro di andata iniziamo andando quattro trame verso destra sul dritto del lavoro che è questo qua per cui una, due, tre e quattro e infiliamo l'ago solamente che adesso quest'ago dobbiamo puntarlo in diagonale qua dietro in basso verso sinistra e uscire quattro trame sotto in corrispondenza del punto iniziale quindi l'ago sta quattro trame a destra adesso in diagonale e esce qui sotto quindi una, due, tre, quattro in questa trama qui vedete bene cosa quindi ho fatto il filo esce da qui sono andata quattro trame verso destra in modo che il punto si chiuderà così l'ago sta in diagonale sul rovescio del lavoro sempre quattro trame sotto il punto di inizio ok quindi possiamo fare questo primo punto e ecco quindi abbiamo una prima porzione rettilinea del filo e questo poi il filo che esce da qui adesso entriamo con l'ago nel punto di inizio ovvero qua e lo puntiamo sempre in diagonale quattro trame verso sinistra quindi una, due, tre e quattro qui così per cui avremo tracciato quest'altra linea qui che è verticale questa volta adesso ricominciamo e facciamo sempre la stessa cosa perché ci ritroviamo nella stessa situazione nella quale eravamo qui per cui solo che adesso ci sono dei punti di riferimento c'è questo in particolar modo ovvero quattro trame verso destra eccole qui il lago sul rovescio del lavoro in diagonale usciamo quattro trame sotto il punto di inizio quindi una, due, tre e quattro usciamo qui e ecco stiamo costruendo la scaletta rientriamo nel punto iniziale andiamo una, due, tre, quattro trame verso sinistra e tracciamo anche quest'altro punto di nuovo sempre la stessa cosa quindi così quattro trame verso il basso a sinistra una, due, tre, quattro rientriamo nello stesso punto e andiamo sempre quattro trame verso sinistra ormai in questo giro di andata dobbiamo fare sempre la stessa cosa ricordatevi di andare qui sotto la prima volta rientrare qui la seconda volta per fare la linea orizzontale poi andiamo qui per fare quella verticale e poi tracciamo questa diagonale per riportarci diciamo nella situazione iniziale il punto questo qui si lavora sul dritto del lavoro mentre in diagonale vedete si va sul rovescio del lavoro qua per fare quello verticale si lavora sul dritto del lavoro ma la diagonale si va a cercare sempre sul rovescio del lavoro e dietro infatti le linee sono dritte perché di qua noi vediamo la scaletta e là invece dobbiamo fare delle linee e risulteranno dietro delle linee parallele necessariamente adesso il giro di ritorno funziona in questa maniera quindi a me serve ricordare che qui il primo punto è orizzontale e qui l'ultimo punto è verticale perché adesso per fare il giro di ritorno noi facciamo sempre un punto in diagonale quattro trame verso sinistra cioè così ok a questo punto nel giro di ritorno dobbiamo uscire otto trame a destra ovvero qui c'è delle volte un po' di difficoltà per dire ma come otto sì perché noi abbiamo fatto questo e con la diagonale siamo arrivati qui adesso dobbiamo tornare indietro di quattro così ma poi uscire altre quattro a destra quindi praticamente eccole qui una, due, tre e quattro torniamo indietro puntiamo l'ago in diagonale così e usciamo in questo punto qui rientriamo nello stesso punto quindi qui e andiamo è in diagonale di quattro trame quindi una, due, tre e quattro eccola qui è come prima si torna indietro e si va in diagonale ecco cioè andiamo sullo stesso punto dal quale eravamo usciti andiamo in diagonale ecco qui puntiamo l'ago qui andiamo in diagonale usciamo qua e chiudiamo man mano tutti i quadrettini cioè continuiamo con la nostra scaletta orizzontale sul dritto diagonale sul rovescio verticale sul dritto quindi diagonale ancora sul rovescio eccola qui orizzontale sul dritto diagonale sul rovescio e verticale sul dritto e continuiamo fino a riempire tutti i quadrettini adesso stiamo qua è uno dei posti dove si può andare a sbagliare quindi noi adesso entriamo qui come prima ed usciamo qui come prima tutto come prima ok e anche qui andiamo quattro trame a destra eccole qui e abbiamo chiuso il quadretto adesso per non sbagliare noi che cosa facciamo entriamo qui e facciamo un punto orizzontale e sono quattro trame rientriamo qua su queste quattro trame e usciamo ancora più in là di quattro trame ok e poi continuiamo con le diagonali e come prima quindi parti in filo in diagonale sul rovescio qui è la verticale sul dritto in diagonale sul rovescio in orizzontale sul dritto in diagonale sul rovescio in verticale sul dritto in diagonale sul rovescio in orizzontale sul dritto sul rovescio insomma sempre l'ago in diagonale mentre sul dritto l'ago in verticale o in orizzontale orizzontale in questo caso sul dritto diagonale sul rovescio vedete verticale sul dritto diagonale sul rovescio diagonale sul rovescio eccolo qua sempre quattro e mi raccomando sto contando sempre quattro per cui vedete uno, due, tre, quattro sta qua, poi 4 in obliqua 4 in orizzontale, 4 in obliqua 4 in verticale, eccetera, eccetera ma ormai è facile perché i quadrettini ci sono tutti e quindi i punti di riferimento ci sono tutti non bisogna stare neanche troppo a contare si vedono i punti che abbiamo messo precedentemente e quindi le trame tranquillamente si portano giù qui adesso tanto bene ho preso questa arriviamo sotto e poi andiamo di nuovo a vedere come girare dobbiamo andare, abbiamo detto, in obliquo in questo punto poi 8 trame, quindi 4 qui no? sono 4 qui 4 ancora a destra 1, 2, 3 e 4 ok, eccole e poi tranquillamente ricominciare il nostro lavoro la nostra diagonale orizzontale sul dritto obliquo sul rovescio 4 trame in corrispondenza di questo punto qui eccolo poi vedete orizzontale sul dritto in diagonale sul rovescio verticale sul dritto in diagonale sul rovescio si vede bene il giro di ritorno ok, e se avete capito questo avete praticamente capito tutto perché abbiamo praticamente terminato perché si fa sempre nella stessa maniera bisogna sempre fare giri di andata e ritorno con questa diagonale, con questa scaletta bene, arrivati a questo punto del ricamo io credo che ormai abbiamo capito come si fanno questi giri di andata e ritorno quindi questa diagonale, questa scaletta adesso vi faccio vedere anche come si porta giù la linea rettilinea ma voglio dire non è che sia difficile una volta che uno è imparato qui sopra e qui sotto anche lateralmente più o meno è la stessa cosa perché adesso, ecco no io metto l'ago qui e vado sulla diagonale qua ok poi mi porto qua e se io non devo continuare cioè devo finire questa porzione praticamente devo fare questo invece che andare di là io vado qui ok e continuo in questa maniera ecco la scaletta la termino qui in poche parole vedete qua no? ho fatto praticamente una porzione di questo lato e vabbè il dietro è così ecco qui viene bene non ho mai cambiato il filo se lo dobbiamo cambiare ripeto possiamo fare il nodino se non ci interessa nulla se invece vogliamo fare che non si veda proprio niente e lo andiamo a fermare qui sotto e poi continuiamo a lavorare è chiaro però ecco la pulizia del lavoro ci deve stare con tutte le porzioni oblique durante le diagonali e qui ai lati le porzioni ecco verticali e orizzontali questa orizzontale e questa verticale perché si trova su questo diciamo margine qui ci sono delle forme no? non quadrate o rettangolari ci sono delle forme ad esempio un cuoricino mettiamo così allora prima di tutto il punto rodi si fa prima di fare il contorno uno potrebbe pensare no? faccio il contorno a punto erba per esempio e poi là dentro ci vado a lavorare il riempimento il fondo in realtà no dobbiamo disegnare questo cuoricino mettiamolo poi noi lo riempiamo con il punto rodi cioè lo disegniamo con la carta copiativa col ferro quindi il trasferibile lì oppure con la penna da ricamo la matita da ricamo eccetera poi lo riempiamo con questo motivo quindi cerchiamo di arrivare al bordo così in questa maniera mettiamo che qua c'è il cuoricino ecco no? noi arriviamo qui poi andiamo a riempire chiaro anche quest'altra parte si riprende la scala qui non è un problema perché sempre si riprende la diagonale così come l'ho ripresa adesso ho terminato qui potrei continuare da questa parte no? poi fermarmi anche qui cerco di riempirlo il più possibile il più carino possibile e poi questi vuoti li vado a contornare con il punto di contorno quindi in questo caso che vi dicevo con il punto erba però voi in questo momento datevi un attimo retta perché è importante imparate bene a padroneggiare questo lavoro diciamo in diagonale perché è importante è importante sapersi muovere nel senso è importante saper girare dal giro di andata a quello di ritorno quindi anche portare giù le linee dritte a fermarsi prima a riprendere quindi la diagonale magari riprendete a lavorare da qui vedete insomma un attimo esercitatevi a quel punto saremo pronti per poter andare a riempire un disegnino intanto voi iscrivetevi al canale mettetevi un bel mi piace condividete il video con le vostre amiche e i vostri amici e che ne so e seguitemi sugli altri social e che ne so